E' il primo vero accenno di fine estate, quello arrivato ormai da un paio di giorni sulla Puglia, un cambio repentino di temperature e condizioni climatiche che hanno riportato la colonnina di mercurio molto più in basso rispetto alla lunga estate vissuta sino a praticamente fine settembre. Un cambio repentino che ha portato temporali sparsi ed acquazioni improvvisi sia sul barese che sul sud e nord barese. Un cambio repentino che tecnicamente viene chiamata tempesta equinoziale con una vasta saccatura nordatlantica che ha investito l'Italia. Il vento è il grande protagonista del weekend visto anche l'allerta arancione diramato dalla protezione civile regionale particolarmente attenzionata la giornata di domenica pomeriggio ma anche lunedì in mattinata raffiche di burrasca o anche di burrasca forte, il calo delle temperature per due o tre giorni al di sotto della media stagionale mentre torneranno ad aumentare solo a metà della prossima settimana. Anche per le piogge è atteso un secondo passaggio più intenso sempre tra domenica sera e lunedì mattina con fenomeni più diffusi anche sulla Puglia. Non sono mancati già i danni però provocati da questa ondata di maltempo tra Altamura e Santeramo, strade trasformate in veri e propri fiumi in piena sino al crollo di diversi muri, violento nubifragio anche nel nord barese con alberi spezzati e la chiusura in alcuni comuni di ville, cittadine e cimiteri, cantine, allagate e dal lavoro in più punti del territorio i vigili del fuoco. Grazie. Grazie.